a c'è vera voi presenti a quanti sono in collegamento via internet iniziamo le letture della undicesima domenica del tempo ordinario con il canto noi canteremo gloria a te noi canteremo gloria a te padre che dai la vita dio d'immensa carità trinità infinita tutto il creato vive in te segno della tua gloria tutta la storia ti darà onore e vittoria nel nome del padre del figlio e dello spirito santo amen cari fratelli e sorelle buongiorno a tutti e buon prima domenica oggi ricominciamo fisicamente potremmo dire il tempo ordinario infatti come potete vedere il computer c'è di nuovo sotto il colore verde bene allora iniziamo tutti insieme questa seconda parte del tempo ordinario perché come ben sapete il tempo ordinario è l'unico tempo della chiesa che si divide in due parti una più grande e una più piccola la parte più piccola è dal battesimo di gesù fino alle ceneri e la parte più grande è questa qui che parte da oggi come domenica fisicamente e andrà a concludersi la domenica della solennità di cristo re il prossimo 26 novembre quindi possiamo notare che è molto lungo infatti questo tempo qui serve per non solo completare l'anno della chiesa perché se non ci fosse il tempo ordinario una buona parte dell'anno sarebbe scoperto perché il tempo di pasqua dura sei settimane sette settimane il tempo di quaresima ne dura cinque e il tempo di avvento ne dura quattro quindi non si andrebbe a concludere tutto il tempo motivo per cui è nato anche il cosiddetto tempo ordinario cioè il tempo nel quale il fedele memorizza e ricorda soprattutto i due momenti solenni della chiesa natale e pasqua infatti viene chiamato il tempo del cristiano bene allora iniziamo tutti insieme in questo momento di preghiera signore che ci hai svelato il disegno d'amore del padre signore che ci inviti a darti testimonianza gloria a dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal signore noi ti lo diamo ti benediciamo ti adoriamo ti glorifichiamo ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa signore Dio re del cielo Dio padre onnipotente signore figlio unigenito Gesù Cristo signore Dio agnello di Dio figlio del padre tu che togli i peccati del mondo abbi pietà di noi tu che togli i peccati del mondo accogli la nostra supplica tu che siedi alla destra del padre abbi pietà di noi perché tu solo il santo tu solo il signore tu solo l'altissimo Gesù Cristo con lo spirito santo nella gloria di Dio padre amè dal libro dell'esodo in quei giorni gli israeliti levate le tende dal re Fidim giunsero al deserto del Sinai dove si accamparono Israele si accampò davanti al monte Mosè salì verso Dio e il signore lo chiamò dal monte dicendo questo dirai alla casa di Giacobbe e annuncerai agli israeliti voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all'Egitto e come ho sollevato voi su ali di aquile e vi ho fatti venire fino a me ora se darete ascolto alla mia voce e custodirete la mia alleanza voi sarete per me una proprietà particolare tra tutti i popoli mia infatti è tutta la terra voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa parola di Dio rendiamo grazie a Dio noi siamo suo popolo greggie che gli guida insieme noi siamo suo popolo greggie che gli guida acclamate il Signore voi tutti della terra servite il Signore nella gioia presentatevi a Lui con esultanza noi siamo suo popolo greggie che gli guida riconoscete che solo il Signore è Dio egli ci ha fatti e noi siamo Suoi suo popolo è greggie del suo pascolo noi siamo suo popolo greggie che gli guida buono è il Signore il suo amore è per sempre la sua fedeltà di generazione in generazione noi siamo suo popolo greggie che gli guida dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani fratelli quando eravamo ancora deboli nel tempo stabilito Cristo morì per riempi ora astento qualcuno è disposto a morire per un giusto forse qualcuno oserebbe morire per una persona buona ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che mentre eravamo ancora peccatori Cristo è morto per noi a maggior ragione ora giustificati nel suo sangue saremo salvati dall'ira per mezzo di lui se infatti quando eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del figlio suo molto più ora che siamo riconciliati saremo salvati mediante la sua vita non solo ma ci gloriamo pure in Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo grazie al quale ora abbiamo ricevuto la riconciliazione parola di Dio rendiamo grazie a Dio alleluia 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 il regno di Dio è vicino convertitevi e credete nel Vangelo alleluia 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 dal Vangelo di Matteo gloria a te o Signore in quel tempo Gesù vedendo le folle ne sentì compassione perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore allora disse ai suoi discepoli la messe è abbondante ma sono pochi gli operai pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe chiamati a sé i suoi dodici discepoli diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità i nomi dei dodici apostoli sono primo Simone chiamato Pietro e Andrea suo fratello Giacomo figlio di Zebedeo e Giovanni suo fratello Filippo e Bartolomeo Tommaso e Matteo il pubblicano Giacomo figlio di Alfeo e Taddeo Simone il Cananeo e Giuda l'Iscariota colui che poi lo tradì questi sono i dodici che Gesù inviò ordinando loro non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei samaritani rivolgedevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele strada facendo predicate dicendo che il regno dei cieli è vicino guarite gli infermi risuscitati i morti purificati i lebrosi scacciati i demoni gratuitamente avete ricevuto gratuitamente date Lode a Teo Cristo Ricordo questa sera alle ore 18 il Vespro nel canale della Cappella Ricordo anche mercoledì 21 giugno alle ore 18 alle ore 11 scusate mercoledì 21 giugno alle ore 11 le letture solenni di San Luigi Gonzaga e 22 giugno alle ore 18 le letture di San Paolino di Nola venerdì 23 giugno alle ore 18 letture vigiliari di San Giovanni Battista 19.30 primi Vespri 24 giugno ore 11 e ore 18 letture solenni di San Giovanni Battista e alle 19.30 i secondi Vespri domenica 25 giugno alle ore 11 le classiche letture domenicali e ora terminiamo con il canto Andrò a vederla un dì Andrò a vederla un dì in cielo patria mia andrò a vederla un dì mia gioia e mio amor al cielo al cielo al cielo andrò a vederla un dì al cielo al cielo al cielo andrò a vederla per la un dì buona serata a tutti